Buonasera amiche ed amici, nell'augurarvi una buona epifania per domani vi pubblico l'ultimo video dell'apertura delle calze della Befana. Ho scelto di aprire, suggerita da una di voi, la calza di Clio Makeup, eccola qua, e questa molto molto carina che ho preso all'Inns. Quale io lo pubblicherò alle 5 questo video, un po' prima del solito, così se volete fare un acquisto dell'ultimo momento, se vi può piacere questa calza o quell'altra, quell'altra l'ho trovata all'Inns e potete andare a vedere se c'è. Questa ha la cerniera, a differenza delle altre che non avevano la cerniera. Mi devo sbrigare perché sono in super ritardo, ma ci tenevo a filmare questo video. Soliti marshmallow, che io odio, eccoli qua, firmati appunto Clio Makeup. Poi abbiamo il carbone rosa, questo è super carino. Non amo il carbone, però fatto rosa così è una bella idea. Sì, questo mi piace, devo dire la verità, molto molto carino. E poi, 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 poi abbiamo le caramelle gommose. Vediamo che tipo di caramelle. Oh, buone queste, con i fiorellini, le coca-cole. Molto belle queste caramelle gommose. Brava Clio! E poi dovremmo avere in teoria una sorpresina di Clio, però c'è anche qualcos'altro. Allora, abbiamo una barretta di cereali, sempre utile per uno snack. E abbiamo un'altra barretta di cereali e cioccolato. Carine dai queste sorprese, non male. E poi abbiamo una spugna per pulire i pennelli. Vedete un coso che voi attaccate così sul lavandino e pulite i pennelli. Filmato Clio Makeup. Beh, direi molto carina questa calza. Andiamo avanti, che sono in super ritardo. E questa qua l'ho presa. Allora, questa calza do un sette e mezzo. Vediamo questa. Questa l'ho presa da Inns. Qua dentro si può mettere anche un messaggio oppure un altro dono. Molto bella l'idea, costava anche poco. E andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro. Allora, queste sono praticamente le caramelle al bubblegum che ho trovato anche sulla calza di Tompogigio, che non mi dispiacciono. Quindi molto carine. Poi abbiamo qua una serie di Chupa Chups fatti a forma di cuore, con gli emoji. Vedete tutti gli emoji. Anche questa è una idea molto carina. Fino adesso, bene. Comunque non è pienissima. Cioè, io me l'aspettavo più piena perché è bella grande. In realtà c'è pochissima roba. Ci sono sti Chupa Chups e le caramelle. Poi abbiamo le gommose, queste qua che mi piacciono. Ottime. Bella idea di mettere queste. Un cioccolatino, simile all'Inter Tarocco. E il solito carbone. Ma a questa do un 6,5, non di più. Quella di Clio comunque ve la consiglio. È molto molto carina. È molto meglio rispetto a quella di Elettra Lamborghini. Insomma, sono due influencer. E tra le due ha avuto un'idea più carina a Clio. Bene, vi mando un bacione e vi auguro buona empifania. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao!